Il parco naturale del Lago di Candi è ormai 20 anni che è stato istituito, sicuramente superati i primi anni difficili dall'istituzione, sicuramente adesso sono più i vantaggi che dà questo parco che non gli svantaggi, perché si riesce a fare sinergia tra gli agricoltori, con la parte sportiva, con il turismo e quindi sicuramente il parco contribuisce a incrementare il turismo, le gare sportive che vengono hanno modo di confrontarsi in un ambiente naturale, gare sportive ovviamente compatibili con ambienti naturali e poi Fiore all'occhiello che abbiamo un po' su questo parco, è sorta un'associazione che si chiama Vivere i Parchi, che lavora con le scuole, con le sensazioni di disabili nell'area del parco e quindi tutto questo sicuramente da un punto di vista ambientale, didattico e turistico, sicuramente il parco di Candia, ripeto, superate le difficoltà iniziali, non può che dare benefici e speriamo che continui così. Il Lago di Candia ha una rilevanza importante sia dal punto di vista culturale che storico per la comunità di Mazzè. Dal punto di vista ambientale è un lago che ha delle caratteristiche di delicatezza e di fragilità importanti. L'obiettivo è stato quello negli anni di preservare queste caratteristiche e di conciliare i diversi usi del lago. La cosa più complessa che abbiamo riscontrato in questi anni è stato proprio riuscire a mettere insieme tutti questi attori e ad ottenere delle situazioni di tolleranza tra tutti quelli che agiscono sul lago. Questo ha comportato delle situazioni anche di tensione che abbiamo superato e in questo momento devo dire che sono soddisfatto sia dal punto di vista del risultato sia dal punto di vista degli obiettivi che ci stiamo prefigurando per il prossimo futuro. È importante continuare a investire su questo parco e questo purtroppo è il lato un po' più dolente perché in questo momento le varie istituzioni non stanno avendo delle risorse sufficienti. Ma l'obiettivo è proprio quello di continuare. I Monti Pelati insistono su una parte della città di Castellamonte principalmente sulle frazioni di Campo e Muriaglio. Noi riteniamo questo parco una grossa opportunità per i cittadini. Devo dire che qualche anno fa era molto meno gettonato. Ultimamente i cittadini invece stanno valorizzando questa parte di territorio anche perché i panorami sono veramente belli e quindi c'è tanto verde. Ultimamente l'outdoor sta prevalendo sullo stare in città per cui questo fa gioco forza a favore di questo territorio. Siamo orgogliosi e vogliamo potenziare questo parco. Il Comune di Vidracco è una delle tre amministrazioni su cui insiste il territorio dei Monti Pelati. La torre alle mie spalle è il simbolo del Comune di Vidracco perché è nel nostro gonfalone, quindi è un simbolo riprodotto, presente nella vita del paese da tanti punti di vista. Il rapporto dell'amministrazione con il parco è volto soprattutto alla sua promozione, alla sua valorizzazione e divulgazione perché siamo convinti che un parco sia diverso da un museo. I musei sono dei luoghi importanti dove si racconta la storia e qui oltre a mostrare il passato ci si trova davanti a qualcosa di vivo che è attuale, che si trasforma e quindi è importante poterlo viverlo, poterlo conoscere. Come Comune abbiamo un progetto che presto sarà realizzato, che ci è stato finanziato, che è volto a rendere accessibili dei sentieri sui Monti Pelati per le persone non vedenti. In questo modo anche la fruizione di cui parlavo diventa una fruizione estesa, diciamo, in senso più ampio a tutti. Bal di Sero ha una lunga storia con i Monti Pelati perché già i miei nonni lavoravano sui Monti Pelati, c'erano delle gallerie dove estraevano magnesite e quando io ero ragazzino che andavamo sui Monti Pelati trovavi ancora badi, le vanghe, c'erano delle rotaie con dei vagoni e la gente del luogo, gli abitanti di Bal di Sero, lavorando lì c'erano dei ragazzini che portavano da mangiare a mezzogiorno e era una risorsa per il paese. Ora i momenti sono diversi e i Monti Pelati diventano una risorsa turistica, anche se la gente del posto li ricorda per le cave che c'erano. Adesso molti turisti vengono, molte committive scolari, i pulmon di scolari vengono sovente, quasi spesso. È un altro modo di sfruttare i Monti Pelati.